amici di quarta parete buongiorno sono al teatro palladium per presentare uno spettacolo che sarà in scena da domani sera fino a domenica e che si chiama 800 uno spettacolo scritto e condotto da elena bucci buongiorno e da marco sgrosso buongiorno diretto da marco con la collaborazione di elena il contrario al contrario vabbè non volevo però insomma la sostanza è quella però non è un caso non è un caso allora parliamo di 800 appunto parlavamo prima appena ho letto la diciamo la sinossi di questo spettacolo mi ha molto affascinato no è un esperimento di drammaturgia elena possiamo dire realmente una una grande tavolata con tutti i protagonisti dell'ottocento tutti no ma molti e la pittura la musica la letteratura con un criterio che è estremamente parziale e dichiaratamente parziale perché ci auguriamo che questa parzialità liberi anche il pubblico noi abbiamo fatto questo viaggio nell'ottocento perché è questa parola che evoca e evoca molto anche se sappiamo tutti che il flusso del tempo è continua e che è un nostro tentativo di mettere qualche barriera qualche definizione però è una parola che evoca moltissime cose le più diverse dalle cose più innovative e rivoluzionarie un secolo di rottura possiamo dire rottura di invenzioni di suggestioni viaggi dentro l'interiorità viaggi moltiplicazione dei viaggi nel mondo comunicazione quindi è veramente estremamente e ci siamo messi abbiamo messi da un punto di vista proprio pensando che la nostra parzialità appassionata potesse essere quella di chi ci guarda quindi un nome risveglia anche tutti gli assenti per chi dice ed è stata una cosa molto carina che è successo che è stato fatto realizzato con la collaborazione centro teatrale brescian della nostra compagnia le belle bandiere è stato tre settimane a brescia con un pubblico numerose sono sempre pienissimo affollatissimo e alla fine persone venivano a vederlo anche due volte ma perché non fate un 802 con quelli che mancano quindi ed era l'obiettivo è raggiunto nel senso di e lo dichiariamo anche nel corso del lavoro e aumentare amplificare la curiosità verso un secolo e anche un passato della nostra cultura del nostro pensiero che a volte può apparire polveroso superato ma sono luoghi comuni sono pregiudizi che è molto bene ogni tanto scuotere marco allora il bello è mettere intorno idealmente intorno alla stessa tavola non so montpassan con ceco fa baudelaire no ecco qual è stato dal punto di vista filologico l'operazione che avete fatto allora diciamo che la il primo passo è stata quella lì di una adesione emotiva l'ottocento è pieno di capolavori letterari teatrali oltre ad essere appunto questo secolo in cui si riscopre proprio l'importanza dell'uomo ci sono i moti rivoluzionari c'è l'italia unita ci sono le ferrovie la rivoluzione industriale quindi è un secolo in cui proprio l'uomo di trasformazione ed è ed è quello che pone la base del novecento dal punto di vista delle adesioni letterarie il primo passo è stato quello chiaramente di adesioni sia individuali che comuni adesioni emotive ma sempre comunque considerando pensando ad un filo che possa unire e al fatto che l'ottocento è anche un secolo che ha cominciato a dare voce a diverse classi sociali e quindi anche nella letteratura per esempio lo spettacolo inizia con un brano che ha trovato Elena di Vittorio Hugo che parla proprio di questa cosa che è il secolo dell'uomo e dopo questo ritorna perché accanto ai grandi personaggi che appartengono alla borghesia che nasce nell'ottocento quindi ci sono dai personaggi nobili ai personaggi letterari e soprattutto ci sono questi grandi romanzi queste grandi scritture che sono dei racconti in cui confluiscono che è anche molto difficile a volte sintetizzare infatti ci sono alcuni percorsi come quelli di alcune grandi eroine femminili dalla bovaria margherita gotti e anna carienina che sono come riassunti e altri invece che sono stati presi come dei brani dei focus su momenti di questi personaggi qui che comunque muovono diverse caratteristiche dell'uomo cioè le loro implicazioni sociali civile umane e poi non dimentichiamo che è il secolo di Freud quindi cui comincia un approfondimento psicologico e quindi anche un altro modo di dire di sé un io che è vicino alla terza persona certo che poi naturalmente pirandello andò a scandagliare molto bene no insomma Elena no mi domandavo naturalmente la materia è varia è complessa ma mi faccio l'avvocato del diavolo qualcuno potrebbe dire però è un'operazione un po di nicchia solo per un certo tipo di pubblico sfatiamo no questo questa diceria mi domando perché non non credo che sia anche il tenore diciamo dei personaggi che voi inserite è proprio per quello è proprio per quello e stiamo parlando anche di creazioni che hanno avuto una 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 grandissima espansione popolare e poi se pensiamo adesso anche a quello che poi è stato il melodrama certe grandi storie c'è dentro margherita Gautier non è detto che è una cosa perché è impegnativa non abbia una sua valenza non dobbiamo considerare la maggioranza del pubblico e l'italia incapace di godere dell'arte della letteratura a volte ci sono appunto anche lì dei pregiudizi delle abitudini abitudini sbagliate spesso anche indotte che tolgono però questo è la missione del teatro secondo me tanto tanto perché come a volte ci è successo quando abbiamo affrontato una follia uno dei primi spettacoli della compagnia è stato l'idiota di Dostoievski in due però questo lavoro che è stato per noi entusiasmante e assolutamente dichiaratamente non esaustivo saremmo stati dei presuntuosi però ha risvegliato in molto il desiderio di entrare nel mondo in questa letteratura meravigliosa perché sono cose molto molto più vicine a noi molto più emozionante di quanto non possa sembrare ecco ma no volevo aggiungere una piccola cosa proprio rispetto a questa cosa qui che non è dell'it nel senso che il teatro è anche racconto di storie in questo spettacolo comunque vengono raccontate dei frammenti proprio di storie e a volte delle anime e come diceva Elena che c'era già successo quando in due abbiamo fatto l'idiota di Dostoievski tantissimi anni fa ma anche in questo caso qui a Brescia dove lo spettacolo ha debuttato e Roma diciamo è la prima piazza dopo Brescia l'anno scorso poi avremo Milano quindi lo spettacolo è anche fresco si sta creando proprio di questa cosa qui è in fase di rodaggio più che di rodaggio è di continua ricerca di continuo approfondimento e allora voglio dire che tante persone per esempio ci hanno detto ah ma sai che mi è venuta voglia di andare a rileggere immediatamente Anna Karenina ah ma quelli erano i Buddenbrock voglia allora in realtà è diciamo uno spettacolo d'élite nella misura in cui un pubblico vuole soltanto sentirsi mettere su un piatto una cosa dall'inizio alla fine e non cercare invece di partecipare con la sua curiosità che c'è al fatto di partecipare fino a un certo punto poi perdere un filo afferrarne un altro che invece può essere anche una cosa molto divertente il merito poi di innescare la curiosità nello spettatore no certo questo devo dire che siamo molto aiutati dalla genialità di questi autori dell'ottocento che hanno veramente una scrittura perché sono racconti anche molto popolari molto molto popolari ci piace immaginare come se fossimo se il pubblico fosse insieme a noi dentro questa grande casa dove si aprono per un attimo delle porte poi si richiudono e di rimane una curiosità immensa hai visto un autore che stava scrivendo musicista che stava componendo senti una musica che passa e va via il pittore e tutto questo è come se fosse un viaggio nel quale non siamo padroni sempre di stabilire fino a che punto non possiamo soddisfare la nostra curiosità perché questa porta si chiude bisogna soddisfare in altri modi ecco bene allora io ho queste due guide dell'ottocento che ringrazio rinnovando l'appuntamento domani sera ore 20 e 30 e domenica io non sono ferrato con gli orari 17 e 30 18 perfetto infatti immaginavo immaginavo teatro palladium Elena Bucci Marco Sgrosso qui al teatro palladium con 800 dovete venire perché insomma un un full immersion possiamo dirlo un full immersion in una grande in un grande secolo grazie Elena ringraziamo anche il teatro palladium che ci ha dato la possibilità di questa ripresa perché insieme al centro teatro il bresciano abbiamo potuto rinnovare ricreare questo lavoro solo per due giorni purtroppo però insomma però speriamo speriamo in meglio no grazie a voi e buon teatro arrivederci